Ben ritrovati a Quala Zampa, questa sera parliamo di gatti, in particolare della scelta del cucciolo di gatto, proprio se qualcuno di voi avesse intenzione di regalare un gattino per le prossime festività, innanzitutto vi do qualche consiglio riguardo la scelta. Potete tranquillamente rivolgervi a qualche amico che ha una cucciolata di piccoli gatti e osservare bene che non ha particolari situazioni come un pelo opaco, come scolo nasale, come delle piccole mancanze di pele intorno alle zampo e intorno al muso. Questo è proprio per scegliere un animale sano e dato che il cambiamento di abitazione, il cambiamento di luogo e il fatto di distaccare il cucciolo dalla propria madre è sempre piuttosto traumatico e quindi può accentuare lo sviluppo di patologie nascoste. Quindi osservate il gattino, il pelo dovrebbe essere lucido e ben curato, non dovrebbe avere mancanza di pelo sul muso intorno alle zampe e il respiro deve essere normale senza il classico rumore proprio del muco all'interno del naso. Questo è importante perché all'arrivo del piccolo gatto nella nuova abitazione non deve trasferire delle patologie né alla chi riceve il gatto né portarlo magari ad altri gatti presenti già in casa. Ci sono alcune poche in realtà infezioni che il gatto può portare, alcune sono delle micosi e alcune derivano dai graffi del gatto. Ma se voi una volta che entrate in possesso del vostro cucciolo vi rivolgete a un veterinario per una visita e per le vaccinazioni del caso sicuramente non andrete incontro a queste situazioni. La situazione più difficile è quando trovate un piccolo gatto per strada e sicuramente è una cosa molto lodevole quella di potersene occupare e di non abbandonarlo sulla strada ma siate consapevoli che è necessaria una quasi immediata visita da parte di un professionista per stabilire le condizioni di salute per vaccinarlo e eventualmente somministrare dei farmaci in modo che il gatto sopravviva al meglio e non riporti infezioni all'interno della casa. Quindi preparate sicuramente del cibo ideale per piccoli gatti, quindi saranno o delle crocchette da ammorbidire o ancora meglio delle buste o dei vasetti contenenti del cibo morbido in modo che il gatto cominci gradualmente ad alimentarsi con cibo solido e per qualunque richiesta e per qualunque necessità ricordatevi che il vostro veterinario di fiducia può indicarvi per tutto quello che riguarda l'alimentazione, le vaccinazioni e eventualmente la prevenzione delle malattie trasmessibili del gatto. Per questa sera è tutto, vi do appuntamento a settimana prossima, arrivederci!